La Basilica di Santa Croce è solo un po' fuori dal m4u guesthouse. La Basilica di Santa Croce è una delle città più grandi francesche e una delle città più grandi gothiche qui in Italia. La città è conosciuta come la gloria dell'Italia, con molti bambini di artisti supremi, scrittori e scientifici. La Basilica di Santa Croce era probabilmente un lavoro dell'Orphodicamio che ha iniziato il lavoro della città nel 1294 ed è finita circa 19 anni dopo. Ma il lavoro per la construzione della città è continuato per il 7o secolo dopo questa fondazione. Nel 1966 la floresta del rivero di Arno ha infilizzato un vero serio a tutte le città e i monasteri. Dentro della città potete trovare la Cappella Peruzzi e la Cappella Bardi, che erano due decorati da Giotto tra il 1320 e il 1325. Poi dentro della città potete trovare molti parole di Donatello, Cimabue e Ghiberti.